Vittorio Nardone, uno dei grandi autori del cinema di genere italiano. Ora è un po' che non fa film, saranno vent'anni. Sono la professoressa Zagaria, presida dell'Istituto Age Scarpelli. Maestro, noi vorremmo realizzare un cortometraggio con i ragazzi. Vittorio, io ti conosco, accetterai. Vorrei solo sapere di chi è stata l'idea di chiamarmi, con la fama che mi portò dietro poi. Il grande cinema del maestro Nardone. Questo è l'ebelletto con me. La Vergine è curiosa. La polizia spara, Anthony non si arrende. Sono ragazzi difficili. Tutto questo progetto è stato messo su per toglierli dalla strada. Azione! Tu hai finito Vittorio, sei finito, punto e basta, hai chiuso. È colpa mia perché pensavo di riprendere a fare cinema dopo vent'anni, alla mia età. Non ho fatto nulla di buono nel cinema prima, figuriamoci adesso.